E' molto semplice, tu sconfiggi l'ancillotto, io prendo un ottimo in assedio bellico e poi torniamo insieme a molto molto lontano. Già, come se mi importasse qualcosa del tuo rendimento scolastico. Non vorrei certo tornare insieme a qualcuno che non ha passato l'esame di assedio bellico, vero? Ok, quali sono le regole? Abbatti le torri prima che scada il tempo. Ecco il castello nemico, all'attacco! Distruggi le torri nemiche per vincere! Bell colpo! Fuoco! Bell colpo! Fuoco! Bell colpo! Fuoco! 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 Buoco 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 Fuoco! Dieci secondi rimasti. Bel colpo! Hai vinto! Fatto! Ho vinto! Ora andiamo! Ma... Devo ancora dare l'esame finale! Gatto! Prendi un grosso sacco per questo ragazzo! No, no! Aspetta! Seriamente! Devo passare l'esame finale, altrimenti verrò bocciato! Non è complicato! Devo raggiungere le montagne e ottenere una missione dalla Dama del Lago! Oh sì, certo! Davvero facile! Gatto! Prendi il sacco! Credi che a tua moglie piaccia un futuro re cacciato da scuola? Uno che non ha portato a termine la propria missione? È questo che merita la gente di molto molto lontano! Oh, e va bene! Dedichiamoci alla tua stupida missione e finiamola qui! La mappa per l'esame finale condusse i nostri avventurieri sui monti ghiacciati, con Artù impegnato nella sua missione! Quanto manca? Quanto manca? Sto gelando! L'idea è stata tua! Certo e arrampicati! I pericoli che affrontarono avrebbero dissuaso i deboli di cuore! E Shrek, se adesso tornassimo indietro potremmo... No, non si torna indietro! Finché al fine raggiunsero il picco più alto... ...e vi si arrampicarono per incontrare la misteriosa... ...dama del lago! Eh... ...neanche... ...pochino pochino? No! 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 Sei sicuro che sia la strada giusta? Certo che sono sicuro! Ho tutti ottimo in... ...eh... ...mappologia! Certo che sono sicuro! Ho tutti ottimo in... Guarda! Un nano! Meglio prenderla larga! Ho imparato che sono voraci predatori molto territoriali! Oh, ma dai! Questi ometti? Per favore! Beh, io non ci vado! Starò qui finché non avrò la certezza che sia sicuro! Certo che sono sicuro! Ciao piccolino! Sembri amichevole! Hai visto in giro la dama del lago? Certo che sono sicuro! Ho tutti ottimo in... No! Non mi muovo da qui! Ah! 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 No! Ah! 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 Questi nonerottoli incominciano a darmi sui nervi! Ah! 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 Grazie a tutti. Oh, cuccioli! Odio queste pesti! Oh, cuccioli! 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 Lotta! 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 Orco cattivo! Orco cattivo! Dovrò saltare per poter colpire quello bianco! Lotta! 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 Oh, cuccioli! Oh, cuccioli! Nascondersi! 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 Oh, cuccioli! 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 Le chiavi sono una parte importante del mio esame finale Grazie a tutti Prendetelo a gomitate! Impressionante! Ok, lasciate perdere le gomitate, usate la spada! Ah! Beh, è stato davvero umiliante Quando vuoi le cose fate per bene Devi arrangiarti da solo Uomini, con me! Stavolta si fa sul serio, basta perdere tempo Vediamo se quello scudo resiste al pugno di un orco Ehi, la lata deve aver mosso questo blocco di ghiaccio Scommetto che serve a qualcosa Sì! 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 Vediamo che succede qui Andiamo! Grazie a tutti